ciao michael come va tutto bene tutto bene luca tu come stai bene benissimo anzi perché sono particolarmente contento di poter iniziare questo progetto questo percorso inaugurandolo con te insomma sono un po fazioso possiamo dirlo perché ci conosciamo però ci tenevo siamo siamo un po di parte sì sì siamo entrambi un po di pace la stiamo ce la stiamo cantando ce la stiamo suonando letteralmente no sono contento perché oggi abbiamo un vero veterano nel senso escludendo quelli che hanno combattuto nelle guerre mondiale insieme agli altri dei veterani moderni io reputo te un esempio lampante no per per il percorso che hai fatto sono sono parecchio lusingato perché io ho la stessa ho lo stesso giudizio nei tuoi confronti quindi tornando al discorso di suonarsela e cantarsela da soli allora dependo la parte di farci a vicenda e complimenti così sembriamo dei fighi ho messo una v adesso possiamo andare avanti no scherzo abbiamo oggi nella prima puntata del podcast di non dolet michael turconi che si trova attualmente in canada corretto 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 chiamvi turco dai in onore dei vecchi tempi va bene allora abbiamo il turco e michael ha trascorso una decina d'anni mike arruolato in forza armata corretto corretto mi sono congedato con 11 anni di servizio attivo 11 anni dopo 11 anni michael ha deciso di effettuare la transizione utilizzando la forza armata non come punto di arrivo ma in maniera assolutamente incommiabile come un punto di partenza per per come esperienza professionale e si è dedicato alla medicina tattica o alla medicina in questo caso entrambe le cose sì sì possiamo dire possiamo dire entrambe possiamo dire entrambe le cose infatti adesso lavoro prettamente in campo civile ok non me ne vogliano i podcaster professionisti registratori gli addetti ai lavori ma vogliamo dire insomma a chi ascolta il podcast e non è magari non conosce il turco o non conosce maccheroni medic su instagram che prima di hai una vita dei trascorsi precedenti alla tua carriera militare diciamo un po un po sempre di parte nel senso che tu hai fatto i tuoi studi in in accademia giusto io ho fatto sostanzialmente gli ultimi tre anni del del liceo classico alla scuola militare teoli e come 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 allievo mi sono diplomato nel 2007 e a quel punto mi sono trovato di fronte al bivio di o proseguire nella nella carriera militare e continuare per diventare ufficiale con il concorso in accademia che stavo facendo in quel momento oppure congedarmi dalla scuola militare e tornare nel mondo nel mondo civile in quel in quel frangente nel 2007 ho deciso di non proseguire il concorso in accademia e mi sono congedato mi sono iscritto all'università milano ho iniziato a studiare a studiare scienze politiche e a lavorare nel mentre ho iniziato a lavorare nell'industria della sicurezza come security officer in un in un hotel di milano questo fino al 2010 anno in cui la la chiamata la vocazione per la forza armata si è fatta risentire ho deciso di riarrolarmi per rispondere alla domanda che mi sono sempre posto ho dei numeri e le capacità per per diventare un soldato delle forze speciali ok quindi avevi già un po assaggiato un po di naia no da liceale no da adolescente sì assolutamente assolutamente come come allievo della della scuola militare posso dire di aver fatto forse più naia di quanto ne ho fatta poi da non da aspirante operatore poi da operatore ma sicuramente da rispetto a quanto fatto da da vfp1 e vfp4 tu pensi che ti abbia indirizzato quella scelta quella di studiare non in un comune liceo o in un istituto tecnico ma di fare di fare la teule ti ha formato ti ha guidato ti ha messo sui binari o sarebbe avvenuto comunque questo tuo percorso militare ma guarda penso che seguire la carriera militare almeno per quanto mi riguarda per me è sempre stata una vocazione quindi penso che alla fine dei giochi comunque in un modo o nell'altro sarei approdato sei uno di quelli allora sono uno di quelli sarei approdato nel mondo militare quello che quello che posso dire però sicuramente è che l'esperienza fatta alla scuola militare mi ha dato le capacità e la disciplina per poi affrontare la carriera militare come l'ho affrontata questo senza ombra di dubbio vorrebbe vedere ai trascorsi tuoi 16 17 18 anni giusto 16 19 16 19 ok hai fatto dai 16 19 che è l'età quella dove normalmente uno insomma inizia a avere le prime esperienze sociali notturne tu sei rimasto recluso quindi immagino che se sei sei stato in grado di resistere a quelle a quelle mancanze lì il resto poi dopo sia stato un po' esatto più semplice no tenevo tenevo la guerra in capa e tutto quello che volevo fare era mettermi la mimetica e stare sull'attente fondamentalmente no si scherzi eri abbastanza prevedibile quindi in realtà a livello proprio didattico una scuola la scuola come interessante la consiglieresti a un giovane di oggi senza senza ombra di dubbio guarda al di là della parte al di là della parte militare della scuola militare la parte la parte didattica è sicuramente di sicuramente di alto livello e da delle opportunità o almeno dava al tempo ma penso non si è cambiato dava delle opportunità di partecipare a convegni congressi conferenze e via dicendo che un normale liceale probabilmente non non ha o non ha così facilità d'accesso la mia è una domanda un po' un po' banale però in realtà ci sentiamo di consigliare a tutti i giovani qualora possono ecco di frequentare una un'accademia una scuola militare chi può chi se lo può permettere chi è vicino anche perché magari per un sedicenne spostarsi ce ne sono quante in italia ce ne sono due dell'esercito che sono l'annunziatella a napoli e la teolia a milano e poi ce n'è una della marina che è il morosini a venezia e una dell'aeronautica che è il 2 a firenze ok per i giovani che magari dovessero ascoltare il podcast curiosi hanno detto adesso sentirò fantastiche storie di guerra invece no vi beccate i nostri consigli sull'istruzione perché la vostra istruzione è importante detto ciò ti sei insomma hai trascorso quanto poi senza divisa insomma nel settore della sicurezza paio d'anni più o meno tre anni ho fatto ho iniziato a lavorare appunto in un hotel a cinque stelle in centro a milano e poi da lì tramite contatti ho fatto qualche qualche corso e corsetto sono riuscito a fare qualche qualche lavoretto di close protection sempre però appunto con lo sguardo puntato verso verso le forze speciali fino a che a un certo punto mentre stavo lavorando con un cliente in sardegna mi sono guardato allo specchio ho detto ma io cosa sto facendo qui da civile e a quel punto ho deciso di partire wfp1 chiaro chiaro e quindi hai detto bene insomma è arrivato il momento di provarci ora mai più no esatto avevo 22 anni al tempo e come hai detto bene era il momento di provarci oppure di dimenticarsene per sempre può anche può essere d'esempio per quelli che hanno trascorso magari un periodo in forza armata non so parlo dei p1 e magari non ce l'hanno fatta al primo tentativo passa una vita civile poi non se la sentono più di riprovare se l'hai potuto fare tu di fare insomma tre anni da civile e risentirti di iniziare da capo dopo un'accademia che che se ne dica comunque qualche porta te la stava aprendo c'è stato sicuramente un esempio incommiabile di tenacia no e di volontà pura che insomma per i giovani che adesso fanno magari due anni tre anni e demordono mi sento dire se ce l'ha fatta lui a riniziare da capo e andare negli alpini giusto sì sì corretto il sesto alpini di brunico non ti sei fatto mancare niente un po anche un po di montagna ho chiesto ho chiesto di andare non solo negli alpini ma a brunico come si stava negli alpini io sono stato benissimo sono stato benissimo negli alpini sono stato benissimo al sesto alpini di brunico che che se ne dica e brunico tende ad avere una mala nomina in fatto di in fatto di forza armata io mi sono trovato benissimo da vfp1 ho avuto tante opportunità che secondo me tanti altri vfp1 nel resto delle caserme d'italia non hanno mai avuto tra cui modulo k fatto in maniera decente le sbarchi e le sbarchi in quota col ch che per carità non è detto adesso a distanza di anni magari non è niente di che però no no però onestamente per farlo capire a coloro che ci ascoltano e non sono addetti ai lavori della forza armata per una risorsa precaria che eri tu all'epoca investire con l'utilizzo di velivoli a dalla rotante o comunque per addestramenti di quel tipo che sono sono costosi per forza armata e sicuramente un vanto no il fatto che non siate non siete stati abbandonati a voi stessi come no tanti sospettano che poi che poi accada giusto hanno investito su di voi assolutamente assolutamente guarda quello che ti posso dire di quel periodo è che il reparto al tempo il sesto alpini mi ha dato tutto quello che mi serviva per prepararmi al meglio alle selezioni poi per per la brigata folgore poi e poi per il nonno reggimento e ti posso anche dire che magari magari è un caso ma dei 30 vfp1 che c'erano lì con me quasi la metà è poi riuscita a transitare nel bacino o al nonno reggimento al quarto all'185 e tanti li conosci li conosci anche tu posso confermare che è stata una buona annata sono state un paio di buone annate quelle lì no ti preparavi da solo ti allenavi con gli altri la caserma ti faceva fare qualcosa quando è arrivato il momento delle selezioni cosa come come ti sei preparato fisicamente guarda il reparto aveva parecchie attività in montagna che per la preparazione anche per chi non era impegnato nel plotone casta di cui poi ho fatto parte in realtà c'erano molte opportunità di fare marce escursione in montagna arrampicata sci sci alpinismo tutte attività che comunque servono a condizionarti sia dal punto di vista fisico che mentale e a darti anche una base tecnica per poi affrontare quei corsi che poi rifarai da aspirante incursore o ranger o acquisitore insomma arrivare ambientali no sì esatto esatto arrivare agli ambientali essendo stato già sulla neve è una bella differenza piuttosto che arrivarci senza mai aver sciato o arrampicato quindi diciamo che ti senti di consigliare ad un giovane che ora deve scegliere la destinazione un reparto alpino come quello dove dove sei stato tu dove hai transitato guarda non sono non sono informatissimo sullo stato sullo stato attuale delle delle attività delle attività nelle parti alpini però per quello che ho potuto toccare con mano io per le esperienze che ho fatto io assolutamente sì io ero un amante della montagna a priori e quindi la possibilità di vivere in quell'ambiente dove gente paga fior fior di quattrini per andare in vacanza per me è stata un'ottima un'ottima opportunità palestra di roccia piste da sci e insomma tutto tutto il corollario insomma hai fatto la tua esperienza la tua esperienza montana dopo aver passato la tua adolescenza chiuso chiuso un'accademia un po un po lì ti hanno liberato un po all'aria aperta sì esatto detto ciò diciamo la fase successiva della tua carriera e poi è avvenuta al reggimento le selezioni da paracautista prima e da incursore poi corretto corretto al tempo quando fatto io insomma il percorso bisognava per forza transitare in brigata folgore per poter poi accedere a bacino delle forze speciali o forze per operazioni speciali al tempo sono passato vfp4 ho fatto richiesta di essere assegnato alla brigata folgore sono andato a pisa ho fatto l'ic corso palestra mi sono brevetato come paracautista militare poi a quel punto ha espresso l'interesse per partecipare alle selezioni per il nuovo reggimento avevi qualche conoscente già dentro il bacino che ti ha raccontato qualcosa il materiale l'hai trovato l'hai trovato osint era open source hai letto libri cioè cosa cosa sapevi all'epoca del reggimento come ti eri informato all'epoca non conoscevo nessuno l'unico contatto che avevo era un maresciallo che era uscito dal bacino ed era poi stato assegnato al sesto alpini e chiaramente io pendevo dalle sue labbra ascoltando tutte le storie degli anni del libano e della somalia quindi insomma per me era questa figura mitologica a cui a cui guardavo ogni giorno come per dire ok questo giorno sarò io e poi avevo letto un libro il cui titolo adesso mi sfugge che girava girava parecchi in quegli anni tra chiamiamoli naioni sulle parti di forze speciali e poi tante informazioni tante informazioni osint che già al tempo circolavano abbastanza liberamente quindi diciamo la selezione e poi la fase formativa ti hanno sorpreso c'è qualcosa che ti ha dato più difficoltà durante il corso adesso per tutti quelli che sono curiosi su l'evoluzione del corso è tutto pubblico sul sito della forza armata dell'esercito basta guardare il percorso per diventare incursore però nella tua opinione personale di turco all'epoca cosa ti è piaciuto di più o cosa ti è piaciuto di meno della tua fase formativa devo dire che tutto tutto il percorso formativo dalla preparazione al tirocinio al tirocinio stesso e poi l'obus il combattimento e tutti tutti i corsi a seguire sono corsi che mi hanno parecchio soddisfatto e impegnato sicuramente almeno dal mio punto di vista il tirocinio e la fase di sopravvivenza forse sono state le due sfide più più grandi da superare penso sia un luogo un po comune no a tutti quanti sono le fasi quelle che provano di più che valutano no la motivazione no quella pura degli operatori perché se uno non ci crede veramente e non tiene veramente alla poi al suo futuro in quel settore lì generalmente le percentuali più alte di perdite avvengono no in quelle due fasi lì non è un caso sì come hai detto appunto quando vai attraverso passi attraverso quelle fasi o lo vuoi e quindi resisti oppure ti rendi conto di non voler così duramente arrivare alla qualifica e quindi a quel punto è lì che hai un cedimento certo certo domanda un po banale nel senso nei momenti poi di difficoltà avevi qualche tecnica particolare per allontanare la mente pensavi a qualcosa non pensavi a a a qualcos'altro insomma che tu hai avuto una tecnica o ti sei lasciato trasportare degli eventi c'è un giovane di oggi cosa consiglieresti qualche tip da dare secondo me la la cosa più importante è capire che la mente ti può spingere oltre ogni ostacolo ma a un certo punto quando vieni posto di fronte a delle condizioni che ti richiedono uno sforzo fisico di un certo livello o sei a quel livello oppure la mente può compensare soltanto per per una piccola parte io mi sono preparato tanto dal punto di vista fisico perché non ho vergogna a dirlo non ero sicuramente un atleta o una persona particolarmente attiva prima di entrare in forza armata e quindi negli anni che ho avuto a disposizione prima di arrivare al tirocinio e poi il corso in sé per sé ho fatto quanto più possibile e arrivando preparato come sono arrivato ho avuto la possibilità di forse subire meno stress fisico e quindi appunto avere la possibilità di superarlo anche quindi vuoi un po sfatare il mito di questi guru motivazionali che la mente fa tutto in realtà non è mente 75 corpo 25 più un corpo 75 mente 25 per cento no non sono una persona che ragiona tanto a livello di numeri però sicuramente per carità la motivazione è importante ma se il fisico non tiene non tiene c'è poco da fare tu dici se devo anche preoccuparmi dei deficit fisici nei momenti che comunque arriveranno di difficoltà perché diciamolo no si parla di prolungata privazione del sonno un'alimentazione magari precaria tutte le fasi dove si cerca di portare gli operatori i futuri operatori a varcare la propria soglia di comfort per valutare poi se sono in grado di resistere a condizioni estreme che affronteranno in carriera quindi in quel momento lì tu dici un corpo ben allenato sicuramente reagisce meglio ma mi sembra abbastanza chiaro assolutamente assolutamente il corso è studiato per portare tutti a prescindere dal livello di allenamento al punto di rottura vicino al punto di rottura se la tua soglia per il punto di rottura è troppo bassa e la mente non può non può riempire il gap c'è poco da fare sai ogni ognuno ha la propria realtà il proprio vissuto poi sono curiosità mie sentire anche come li hanno vissuti gli altri operatori no io ho la mio punto di vista tu hai il tuo poi alla fine tante volte ci si ritrova perché siamo complessi tanto complessi quanto poi semplici nel nel provare abbastanza le stesse emozioni no poi metabolizzate in maniera differente detto ciò hai superato il corso perché sei diventato incursore in che anno nel 2015 lo siamo diventati insieme nello stesso anno qualche mese di differenza abbiamo avuto io poi arrivavo già dal bacino da due settimane di distanza ci siamo poi ritrovati in compagnia tu arrivavi già dalle tue consistenti esperienze nel bacino sì insomma sono un po' di quelli che hanno effettuato la transizione per osmosi e quindi avevo già avuto esperienze nel bacino e poi ho incontrato voi insomma i ragazzi del tuo corso come un incrocio a t ci siamo trovati poi abbiamo seguito per tutto un periodo della nostra vita un percorso comune no siamo stati insieme due o tre volte all'estero anche se magari in località differenti con incarichi poi differenti però abbiamo abbiamo lavorato per lo stesso padrone sì assolutamente assolutamente sì per arrivare al punto che più ci premeva era parlare del riconoscimento che forza armata ti ha dato per un'operazione in particolare che è relativa al 2017 corretto eri un giovane incursore no avevi un paio d'anni già di servizio però era la seconda terza volta già che andavi all'estero e in realtà poi tu una volta che sei diventato operatore ti sei specializzato nella branca che è attualmente il tuo oggetto di studio e di crescita giusto quella medica sì sì esatto io non avevo conoscenze in campo medico al di là dei corsi base di rianimazione caldiopormonare primo soccorso che avevo fatto alla scuola militare e poi durante il corso Obo se poi durante il combattimento appunto abbiamo ricevuto i fondamentali per quanto riguarda la parte medica ed è lì che mi sono appassionato alla figura del combat medic è lì che sono venuto a conoscenza dei vari corsi a cui gli appartenenti alle forze speciali hanno accesso per qualificarsi ed è lì che ho deciso che quella sarebbe stata la mia la mia branca di specializzazione nel limite del possibile Mike puoi riassumere che corsi hai fatto tu sei diventato Nato Socom Medic corretto? corretto sono diventato Nato Socom che sta per Nato Special Operations Combat Medic che è una qualifica che a livello Nato può essere erogata o dalla scuola di Fort Bragg negli Stati Uniti giusto? negli Stati Uniti sì Fort Bragg negli Stati Uniti o dall'International Special Training Center a Full Endorf in Germania oppure dalla Nordic Initiative che è un consorzio fondamentalmente fatto dai paesi nordici dove erogano il loro corso Nato Socom quindi in realtà hai acquisito competenze mediche che si concentrano ovviamente di salvare vite sul campo di battaglia la figura del Nato Socom è incentrata appunto a prestare le prime manovre di soccorso base e avanzate per un ferito sul campo di battaglia e poi per mantenerlo nel caso in cui ci sia un ritardo nell'evacuazione che è uno scenario abbastanza comune per quello che riguarda le missioni delle forze speciali e poi c'è un focus per quanto riguarda la medicina clinica perché appunto molto spesso il medic è la figura con addestramento sanitario più alto presente in alcune zone quindi c'è anche quella parte per la gestione di emergenze minori o patologie appunto sì perché insomma bisognerebbe fare un po' un cappellozzo per quanto riguarda l'operatività delle forze speciali giusto per quelli che magari non sono tanto avvezzi sono dei reparti che sovente operano in condizioni di semi isolamento per periodi più o meno lunghi e quindi senza avere il supporto logistico del resto della forza armata devono garantirsi una certa indipendenza sul territorio nel quale vanno a lavorare e quindi ovviamente anche un'indipendenza sanitaria perché se nessuno può soccorrerli in tempi brevissimi perché magari si trovano isolati dietro le linee oppure distanti comunque dalle retrovie e dai punti di soccorso è qui che poi è nata la necessità di avere dei personali militari che sia sì in grado di combattere ovviamente come prima skills però poi sia anche in grado di sostenere in caso di necessità gli altri operatori che siano stati feriti o anche per banali malattie perché non è presente il dottore come in Italia insomma il medico di famiglia poi all'estero ma tu diciamo assolvi un po' quelle competenze per quanto insomma la tua figura ti consente esatto esatto dai punti di sutura la paracetamola esatto c'è sempre qualche forma di contatto con personale medico in patria ma appunto nel limite di quelle che sono le capacità tieni d'occhio anche queste emergenze non legate appunto al tramo al combattimento in sé per sé insomma è una figura un po' particolare largamente riconosciuta all'estero dagli alleati della Nato una figura un po' complicata in Italia per insomma per questioni legali appunto delle altre figure mediche che ti rendono un po' non necessario sul territorio nazionale dato che c'è una linea di soccorso c'è il 118 ci sono gli ospedali c'è la sanità nazionale resta il fatto che credo che tu abbia collaborato alla creazione di una proposta di decreto legge per valorizzare le tue competenze o le competenze delle figure professionali simile alla tua dei soccorritori dei soccorri medic per poter operare limitatamente anche sul territorio nazionale sì c'è stata una proposta di legge presentata qualche mese fa dall'onorevole Matteo Perigo di Cremnago appunto volta a una sorta di riordino della figura del soccorritore militare e del combat medic insieme alle forze speciali che speriamo possa dare un po' più di spazio di manovra per quanto riguarda soprattutto il mantenimento delle competenze in patria e l'accesso ai vari corsi e via dicendo insomma bisogna anche aprire un attimo una parentesi sulla presenza non in grandissimi numeri di personale medico nella forza armata soprattutto le parti di forze speciali che rendono necessario l'addestramento di operatori come te e come gli altri soccorri medic che vadano un attimo a colmare quel gap che c'è poi di necessità mediche all'estero anche banali e anche di integrazioni, di idratazione il medic è un po' la mamma all'estero che veglia sugli operatori per vedere se anche lo stato di salute è giusto insomma sono ambienti che ci vedono un attimo a essere sbalzati in altre realtà totalmente differenti per cui il medic è quello che si occupa un po' di garantire che nell'insieme la salute dei soldati poi che sono sotto la sua protezione insomma sia costante nel periodo di deployment giusto? esatto esatto come hai detto il medic a volte fa un po' la mamma della situazione insomma ricordi un po' la gente che lavora con te al personale che lavora con te idratatevi cose banali cambiatevi i calzini piuttosto che altri ma è anche quello è anche quello che poi tante volte è pieno di super uomini che magari trascurano anche sai lesioni secondarie vesciche, tagli però sono paesi che ci vedono con un sistema immunitario differente ed ha un taglio superficiale trascurato sappiamo bene che l'asseticemia è in agguato e quant'altro esatto quindi è un po' il medic che per non dover fare evacuazioni strategiche ogni 15 giorni è un po' quello che ha una visione d'insieme anche di queste problematiche si, applichi quella che viene chiamata in campo tecnico appunto medicina preventiva per cercare di evitare di arrivare allo scenario in cui devi evacuare del personale per magari cose che se venivano prese in tempo venivano corrette in tempo si potevano risolvere più facilmente diciamo che i medic sono delle figure un po' fondamentali necessarie della componente operativa poi sul campo di battaglia perché insomma penso ci siano da sempre e quindi adesso siete sicuramente più tecnologici più istruiti tu hai fatto una scuola parecchio intensa il corso che hai fatto tu ti ha visto impegnato per quanto? io ho fatto due corsi prima di arrivare al NATO SOCOM che sono l'Advanced Military First Responder l'Advanced Casualty Sustainment Care Course che sono due corsi che vengono fatti sempre in Germania che danno appunto le basi su cui poi si costruisce il resto della formazione del NATO SOCOM che di per sé dura 24 settimane quindi un totale di 32 settimane a differenza del corso che viene fatto negli Stati Uniti che invece dura 36 settimane che tu sei stato un po' un'apripista per gli italiani in Germania giusto? sì, gli italiani frequentavano i corsi in Germania da decenni però il corso a cui ho partecipato io insieme ad altri tre italiani è stato il pilot NATO SOCOM quindi il primo corso NATO SOCOM fatto al di fuori degli Stati Uniti giusto per farmi un po' vanto della tua figura tu avevi un grado apicale della gerarchia militare all'epoca quando sei stato inviato a frequentare questo corso? no, assolutamente no ero un primo caporal maggiore VFP4 sostanzialmente eri in fondo a destra esatto, esatto, l'ultimo in fondo a destra vogliamo sfatare il mito che i corsi importanti qualificanti, professionalizzati di Forza Armata siano riservati un po' sempre ai soliti alle ricomandate in realtà io mi sento di spezzare una lancia a favore del bacino e alla Forza Armata in generale perché in realtà è una struttura assolutamente meritocratica che quindi ha inviato un giovanissimo con un grado molto basso della gerarchia militare all'estero rappresentando l'Italia perché poi di fatto tu lì rappresentavi l'Italia esatto, e come hai detto tu la meritocrazia è anche il fatto che viene dato spazio ai giovani che dimostrano di avere capacità, competenze, voglia e determinazione di seguire determinati percorsi ci tenevo a dirlo perché poi si ha sempre un'idea un po' distorta non si sa bene come funziona i corsi come uno viene inviato semplicemente ci sono questi posti che sono garantiti perché bisogna formare il personale ma sono aperti a tutti a tutti coloro che poi manifestino la voglia e la volontà di seguire quel tipo di specializzazione si garantisce che se uno ha un'ambizione particolare di farlo specializzare in quello che lui ama non sei stato forzato, guidato lo volevi fare fortemente e ci sei andato sì sì, nel limite chiaramente di quelle che sono le esigenze mi sento di dire che perlomeno all'interno del bacino cercano di accomodare le inclinazioni o le ambizioni per quanto riguarda la parte medic nello specifico l'unica grossa barriera all'accesso a tutti questi corsi è la conoscenza della lingua inglese perché sono tutti corsi che vengono somministrati in inglese c'è parecchia terminologia tecnica c'è parecchio linguaggio tecnico da acquisire quindi ci vuole una conoscenza dell'inglese perlomeno intermedia se non avanzata io sono autodidatta non ho fatto scuole d'inglese non sono stato all'estero io ho iniziato guardando i cartoni animati che mi era stato consigliato da qualcuno più anziano e dai cartoni animati sottotitolati poi ho iniziato la mia comprensione della lingua tu come ti sei preparato? io ho avuto la fortuna di fare un paio di vacanze studio all'estero quando ero ragazzino prima ancora di entrare alla scuola militare e poi alla scuola militare ho avuto l'opportunità di fare delle lezioni al tempo si facevano con British Academy a Milano con degli istruttori madrelingua e devo dire che sicuramente questo mi ha dato un grande vantaggio poi per quello che è stato il mio percorso dopo a reggimento e poi dopo? vogliamo dire della tua parte tu pensi che io non ne avrei parlato pensavi che io avrei avrei ignorato di dire che sei andato a tirare su a Aragoste gratis dove? in Scozia? in Irlanda in Irlanda sei andato a raccogliere hai fatto il pescatore a titolo gratuito sei stato lo studente alla pari più sfigato della storia degli studenti all'estero ma l'avevo rimossa questa parte cioè ci mancava che andassi in miniera in India per imparare l'inglese sì è vero durante una licenza estiva durante il corso durante la specializzazione da incursore sono andato un mesetto alla pari in Irlanda appunto lavorando su una barca da pesca per l'Aragoste in cambio di vitto alloggio sostanzialmente cosa che però appunto mi ha anche aiutato tanto per quanto riguarda l'inglese poi ho fatto un mese lì ho detto no questo lavoro è troppo duro meglio tornare in forza armata però è portato via un po' anche di esperienze insomma se le possibilità per i giovani senza dover pagare corsi blasonati viaggi a Miami se c'è la volontà anche durante l'estate durante i periodi liberi insomma ci sono questi scambi alla pari questi lavori qua all'estero sì è un po' svilente però alla fine si fa un'esperienza che metti lì nel tuo bagaglio tra i ricordi tutta la vita poi lo racconti ti fai anche una risata dove hai trovato questo scambio? Help Exchange Help Exchange è un portale su Google dove ci sono persone in tutto il mondo non soltanto in Irlanda in Inghilterra che offrono appunto queste possibilità per andare lì alla pari di solito si richiede un circa 4 ore di lavoro al giorno che può andare dall'aiutare nella fattoria piuttosto che nel bed and breakfast o nel ristorante o nel mio caso appunto sulla barca da pesca poi nel resto del tempo insomma hai la possibilità di girare di farti le tue esperienze e via dicendo mi è venuto in mente ora perché ho detto ma sai uno poi immagino che l'audience sarà variegata ma ci saranno anche i giovani turco che dicono sì vabbè ma la fa facile lui è arrivato fino in Canada chissà com'è imparato la lingua si è andato a tirare su a Ragoste in Irlanda dai pescherecci i marci cioè non è che babbo e mamma ti hanno pagato l'abbot school di languages no no assolutamente giusto perché sai tante volte uno non lo sa la rete è una struttura fantastica che dà un sacco di informazioni ma poi tende a celerne altre informazioni su informazioni poi se uno non gli viene detto da qualcuno che ci è passato tante volte il passaparola è ancora la tecnica quella più funzionale lo senti da un altro quindi c'è anche questa possibilità per imparare l'inglese per i giovani ok Mike arriviamo se proprio vogliamo seguire una consecutio temporum arriviamo al 2017 quando ti è stato dato il riconoscimento 2017 ho finito il corso nato Socom a marzo agli inizi di aprile sono partito per l'Iraq e forza la task force 44 e da lì sono stato distaccato con un'altra task force sempre in seno alla coalizione una task force multinazionale che era appunto tascata a supportare le operazioni delle forze irachene nella liberazione di Mosul che era l'ultima roccaforte dello stato islamico in Iraq ed è lì che appunto ho avuto il mio battesimo del sangue forse possiamo dire dal punto di vista medic sì anche umano e militare immagino adesso non ti faccio domande specifiche anche per tutelare la cleanest delle operazioni però insomma ci puoi dire quello che è scritto sul tuo riconoscimento hai preso una croce al merito sì ho ricevuto una croce d'argento al merito dell'esercito per quanto riguarda la forza armata e invece negli Stati Uniti ho ricevuto un altro riconoscimento che è l'International Medical of the Year Award che ho ricevuto a Charlotte dalla Special Operations Medical Association che è il più grande ente per quanto riguarda l'avanzamento della medicina tattica per le forze speciali possiamo dirlo adesso al di là del titolo altisonante e nel 2017 sei stato il miglior medic del mondo il miglior soldato con competenze mediche del mondo giusto? ho avuto la grande fortuna di essere nel posto giusto al momento giusto ho lavorato penso in maniera consona agli standard o forse un po' di più e questo è stato notato beh immagino un po' più alto se ti hanno dato un premio e una croce immagino che tu abbia fatto qualcosa di più però sei fottutamente modesto quindi sì diciamo che mi sono trovato catapultato in un ambiente molto particolare multinazionale e come quasi unico rappresentante per quanto riguarda la forza armata italiana circondato da medic americani canadesi e di altre nazioni di grandissima esperienza e non abbiamo un cazzo da invidiarli no no non abbiamo un cazzo da invidiare nessuno questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio sì non giusto per essere troppo tronfi però alla fine tanti film di hollywood tanti film degli altri paesi combattenti sai abbiamo anche i nostri brillanti soldati no in giro per il mondo che poi prendono premi e arrivano primi alle competizioni tu nel 2017 è stato sicuramente più famoso no permettimi il termine aggiungo anche che gli italiani hanno una consistente storia di successo anche per quanto riguarda la parte medi che siamo arrivati primi ai tutti i corsi in Socom in Germania i primi sono sempre stati italiani dal 2017 a oggi e regolarmente abbiamo gente che arriva prima anche al corso Socom negli Stati Uniti ok vogliamo dire in Germania chi c'è c'è gente che normalmente arriva dal nord Europa e quindi c'era praticamente come lingua madre no l'inglese sì nonostante il fatto che noi forse partiamo un po' sbattaggiati dal punto di vista della lingua continuiamo a eccellere anche di recente mi sa arrivato prima l'anno scorso un ragazzo del GOI il ragazzo del GOI di cui stai parlando è arrivato primo al corso negli Stati Uniti ok per la prima volta nella storia giusto? penso di sì penso di sì se diciamo delle castronerie ci correggeranno i più esperti magari mettono un commento al podcast e ci fanno sapere se c'è qualche inesattezza poi provvederemo magari a correggerla assolutamente per quanto riguarda la Germania hanno fatto tre corsi per ora perché l'ultimo è stato interrotto a causa Covid e tutti e tre i corsi l'Honor Graduate che sarebbe il primo del corso è sempre stato italiano a partire da me nel 2017 poi negli anni a seguire esatto meniamocela 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 quando possiamo perché no? per quel poco che è anche noi non se ne parla c'è sempre un po' quel velo di è giusto quel velo di segretezza però delle cose belle bisogna parlarne c'è poco da tenere nascosto è una cosa di cui fare vanto secondo me di avere dei giovanissimi che si adoperano all'estero e non abbiamo niente da invidiare altro che la fuga di cervelli che è anche la cosa che ti riguarda un po' particolarmente diciamo e ascolta al di là delle domande banali che ti può fare giornalista piuttosto che io ti volevo chiedere ovviamente riguardo all'operazione di quell'anno se me lo puoi dire insomma a livello umano qual è stata magari la situazione che ti ha coinvolto a livello emozionale umana di più ci sta ci sta sapevo che questo momento sarebbe arrivato parto col fare un piccolo cappellozzo è dire che Mosul è stata un'esperienza diversa non soltanto per me che mi sono trovato catapultato lì come medic fresco di formazione ma un'esperienza diversa da tutto quello che era stato fatto negli ultimi anni anche da le nostre controparti della coalizione perché la battaglia di Mosul è stata molto più simile a un evento di guerra simmetrica rispetto a tutte quelle che erano state le operazioni precedentemente in Iraq e in Afghanistan senza nulla togliere a quello che è stato fatto lì semplicemente un qualcosa di diverso alle varie ramadi sì c'è stato ramadi in Iraq due anni prima ma per quanto riguarda appunto sia la grandezza di Mosul che la quantità di personale civile e di combattenti nemici e di forze della forza della coalizione impiegata insomma è stato uno sforzo consistente e l'assistenza medica è stata un po' riscritta sul pezzo perché appunto non c'erano grosse direttive al tempo e insomma quello che è lo spirito tipico delle forze speciali ci si è adattati all'ambiente abbiamo messo su un punto di raccolta feriti sull'asse est dell'attacco alla città di Mosul abbiamo messo su questo punto di raccolta feriti in una casa abbandonata da una famiglia irachena che era fuggita dalla guerra e lì abbiamo iniziato a e chi accoglievate non ovviamente soldati italiani che non erano impiegati in quel momento ma membri della coalizione soldati iracheni cioè per la stragrande maggioranza soldati iracheni delle forze armate irachene della polizia irachena e qualche ferito della coalizione non italiani però giusto perché magari si è detto tanto si è detto tanto di Mosul si è parlato tanto ha avuto anche visibilità mediatica con documentari racconti poco si sapeva magari delle forze che ha detto non abbiamo dato supporto medico quindi tu che sicuramente sei il diretto interessato chi meglio di te ci poteva raccontare un po' questa parte qua che se ne dica avete salvato la vita da tanti iracheni che combattevano l'isis per fermare l'avanzata sì e appunto le forze irachene non avevano le capacità di per sé per prestare cure soprattutto per quanto riguarda la parte avanzata non avevano grosse capacità e quindi è lì che le forze speciali sono state impiegate per colmare quel gap io ho passato due mesi lì a Mosul e in quei due mesi in cui sono stato lì insieme ad altri tre medic due canadesi e un americano abbiamo visto circa 250 feriti iracheni tutti insomma da urgent surgical che è la massima categoria di gravità per quanto riguarda la scala nato e l'evento che più ricordo che forse mi ha segnato di più che è più vivido nella mia memoria è qualcosa che è successo dopo poco tempo che ero a Mosul ci siamo trovati praticamente dal nulla a gestire un evento mass casualty che sarebbe un evento in cui il numero di feriti supera le risorse disponibili con appunto con quattro medic abbiamo gestito 20 feriti che sono arrivati lì al nostro punto di raccolta feriti dopo che erano stati colpiti da un IED da un ordigno esplosivo improvvisato a bordo della strada il quale aveva poi causato la detonazione di alcune tanniche bombole di propano che avevano a bordo quindi sostanzialmente siamo trovati a gestire pluri amputati con anche costioni parecchio estese civili erano? no 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 militari militari iracheni e perché cazzo avevano il propano a bordo? penso che stessero tornando dalla linea del fronte stavano andando in una delle basi nelle retrovie per un turno di riposo probabilmente penso avessero il propano perché lo usavano per cucinare lì al fronte ah vabbè la sfiga nella sfiga la sfiga nella sfiga erano le 4 e mezza del mattino avevamo gestito feriti a rotta di collo per gli ultimi 2-3 giorni eravamo tutti in branda fondamentalmente abbiamo sentito grida urla non avevamo idea di cosa stesse succedendo nessuno ci aveva avvisati e quando siamo usciti dalla porta della nostra casa ci siamo trovati a uno scenario da fin dell'orrore c'erano 4-5 ambulanze irachene parcheggiate una sopra l'altra fondamentalmente c'era uno degli altri medic che si era svegliato presto per andare a fare una sessione di allenamento mattutina che era già lì che stava cercando di capire cosa stesse succedendo abbiamo iniziato ad aprire le ambulanze e fondamentalmente la prima cosa che ho visto che mi ricordo sono stati due soldati iracheni completamente ustionati che sono scesi barcollando dall'ambulanza l'odore di carne bruciata che impregnava l'aria dappertutto e a quel punto ci siamo ma lì come avete vi siete regolati ma chi vi avete dato priorità chi era il comando per il triage fortunatamente uno degli altri medic americani di grande esperienza ha avuto la prontezza di prendere il controllo della situazione ha assegnato uno di noi medic per ogni ambulanza e da lì abbiamo iniziato appunto a fare il triage a capire chi avesse bisogno di cure più immediate e chi poteva essere delegato in un secondo momento io personalmente ho preso in carica un'ambulanza e i primi due feriti su cui sono intervenuto erano entrambi già morti con segni di morte evidenti e insomma ho dovuto sostanzialmente scavare sotto questi due corpi ho trovato altri due perché i soldati erano buttati uno sopra l'altro e ne ho trovati due ancora vivi con gravi ferite amputazioni ancora sanguinanti ustioni e da lì abbiamo iniziato la gestione del caos quanto è durato tutto? dai ti voglio solo alleviare dai dettagli troppo medici quanto è lavorato? quanto è durato tutto? abbiamo lavorato ininterrottamente per quattro ore gestendo per ogni medica almeno due o tre feriti abbiamo chiamato chiaramente tutto il personale disponibile in aiuto a darci supporto in quel preciso momento non c'era possibilità di evacuazione quindi abbiamo dovuto aspettare abbiamo dovuto gestire questi feriti per circa quattro ore finché poi non abbiamo avuto la possibilità di avere un elicottero da trasporto iracheno con cui evacuare i feriti più gravi quelli che erano ancora vivi verso le retrovie in quella circostanza in quella circostanza che hai improvvisato credo abbiano creato delle SOP in relazione a un tuo intervento in quel caso lì? sì uno dei feriti aveva una ferita al collo che non riuscivamo a tamponare in nessun modo usando i metodi convenzionali e ho avuto l'idea di usare un catetere foli che è un catetere che serve per evacuare l'urina dalla vescica di un paziente l'ho utilizzato per tamponare una moragia al collo che fortunatamente ha funzionato il paziente è sopravvissuto sia alla nostra evacuazione che al trasporto e poi è stato trattato in un ospedale iracheno possiamo dirlo che dal tuo ingegno hanno preso poi insegnamento hanno scritto credo una libretta ho letto qualcosa ci sono state delle lesson learn a riguardo dal tuo improvvisare sì è una tecnica che non ho inventato niente di nuovo perché è una tecnica che si usa abbastanza normalmente in posti come il Sudafrica ma non viene tanto utilizzata né in campo civile in occidente né per quanto riguarda il campo militare in campo militare non c'erano casi documentati pregressi quindi insieme ad altri due medici con cui ho lavorato lì abbiamo scritto un articolo pubblicato poi sul Journal of High Threat in Austere Medicine che è una rivista scientifica australiana specializzata in medicina tattica in ambiente militare avete usato lo storico ingegno italiano per salvare la vita di un'altra persona tutto qua molto più semplice improvvisare adattarsi raggiungere lo scopo e ti dico che hai tirato in ballo l'ingegno italiano ti dico che forse perché noi siamo abituati a lavorare con meno è una cosa in cui siamo più bravi degli altri secondo me in questo a metterci da pezza no? sì 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 fortuna audaces you want come dicono fortuna aiuta gli audaci in quel caso abbiamo avuto fortuna e quindi è stata un po' la cosa che ti ha segnato di più? ti capita di pensarci o hai metabolizzato bene la cosa? io ci penso sempre perché non penso che passi una giornata senza che abbia un ricordo o una memoria legata a quei mesi che ho passato a Mosul è stata un'esperienza stressante perché comunque eravamo veramente tanto sotto pressione avendo un numero limitato di risorse eravamo sostanzialmente sempre impegnati però soprattutto grazie al fatto che la forza armata mi ha dato la possibilità poi di parlarne in seguito e insomma di fare convegni congressi eccetera questo mi ha aiutato tanto a metabolizzare a farmi una ragione della sofferenza e di quello che ho visto e penso di essere penso di essere in pace con con quelle memorie sì alla fine in sostanza è lo stesso motivo per il quale stiamo producendo questi audio un po' per dare ancora voce a voi che siete stati sentiti magari in un altro contesto adesso a bocce ferme ci riparlate un po' più umanamente di quello che avete visto se ho capito bene mi stai dicendo che averti fatto parlare pubblicamente cosa che non avviene spessissimo in realtà un po' ti ha dato una mano a capire più intimamente quello che avevi fatto a capire che era una cosa ancora più giusta e ne è valsa la pena quindi un plauso a forza armata che ti ha permesso di condividere una cosa che penso 15 anni fa 20 anni fa non si sarebbe fatta esatto e a distanza di circa un anno dagli eventi di Mosul dal nulla ho ricevuto un invito per partecipare appunto a un convegno degli Stati Uniti alla Special Operation Medical Scientific Assembly che si viene ogni anno a Charlotte dove appunto mi chiedevano di presentare insomma alcuni dei casi affrontati a Mosul di parlarne e quello mi ha aiutato tanto per avere quell'opportunità la Forza Armata mi ha mandato negli Stati Uniti e il parlarne di fronte a migliaio di persone dell'ambiente medici no? personale medico sì personale medico dottori, infermieri altri Special Operations Combat Medic paramedici civili parlarne con il frangente vedere appunto l'impatto che queste lessons learned hanno avuto sulle altre persone mi ha dato tanta capacità di metabolizzare e farmi una ragione di tante cose come dire è stato un po' il tuo trampolino da lì in poi tu hai deciso di dedicarti anima e corpo alla medicina corretto guarda la metto giù in maniera molto terra terra io quando mi sono arruolato avevo un'erezione per quanto riguarda tutto quello che fosse tattico le armi le mimetiche l'equipaggiamento piuttosto che come tutti come tutti come tutti e dopo appunto queste esperienze mi sono trovato ad avere più passione per la parte medica che non altro e da lì ho capito che volevo fare qualcosa di diverso hai proseguito gli studi giusto? sì ho avuto la fortuna che appunto in quel frangente negli Stati Uniti quando mi è stato dato quel riconoscimento era presente anche il personale dell'università di Cork che è l'ente che dà il supporto accademico per quanto riguarda tutti i corsi medic fatti dalla Nato mi hanno dato una borsa di studio per ottenere una laurea all'equivalente di una laurea triennale in quello che in italiano potrebbe essere tradotto in scienze paramediche appunto da lì ho iniziato a lavorare per transitare in una carriera civile ok quindi in realtà la cosa che adesso ci tenevo a dire è che tutto questo che è avvenuto tu sei stato mandato in giro a fare convegni e a raccontare la tua storia eri praticamente l'unico italiano di un avamposto in una zona di guerra con tutto personale medico avanzato tu continuavi ad essere l'ultimo soldato in fondo a destra per grado io ci tengo a sostenerlo parlarne con tutte le persone che posso perché in realtà la forza armata è molto più intelligente è molto più lungimirante e professionale di quanto poi magari chi non è dentro non sappia perché alla fine c'è un'elasticità della gerarchia che è assolutamente meritocratica e tu sei l'esempio lampante poi ti sei appassionato tanto alla materia che hai detto sai cos'è lo step successivo è diventare un professionista della medicina un paramedico perlomeno assolutamente assolutamente mi sono trovato a un punto in cui ero più appassionato alla parte medic che non a tutto il resto e ho capito che non ero più in grado di dare la giusta attenzione che avrei voluto a tutto il resto ed è lì che ho capito che forse era il momento di guardare altrove hai effettuato la transizione noi la promuoviamo come associazione di promozione sociale ovviamente ci teniamo a dare visibilità ai veterani come te a parlare delle criticità che sono legate alle figure come la tua ma anche a promuovere la transizione che secondo noi è una cosa che un po' viene a mancare nella cultura italiana ora come ora perché c'è una concezione delle competenze nostre un po' limitata nel tuo caso non è stato così purtroppo sei dovuto andare all'estero perché venissero riconosciute le tue competenze mediche sì sì è corretto come hai detto al momento la forza armata è molto orientata a mantenere una volta che il personale è in servizio permanente a mantenerlo fino fondamentalmente alla fine della vita lavorativa mentre invece quello che vorremmo con Nondole è far sì che ci sia la possibilità per chi interesse di reinventarsi in una seconda carriera sì chiaro e adesso la forza armata ha dei progetti in corso molto interessanti che sta sviluppando proprio ora in questi giorni dalla divisa al lavoro insomma dove sostiene la transizione e l'aiuto magari a chi non è diventato un soldato permanente e quindi gli dà una mano a trovare lavoro poi ci sono tutti quelli un po' come noi che hanno un know-how particolare che anche per il mercato per il mondo del lavoro sono delle figure un po' ambigue un po' strane cioè le tue competenze non ti puoi presentare in un'azienda e dire beh io sono stato a Mosul ho preso dei premi però poi a livello oggettivo ha delle competenze un po' troppo particolari per il mondo del lavoro e quindi a differenza di altri paesi dove le aziende sono sicuramente più aperte vedi i progetti non so di Amazon Military o VetForce di Salesforce che sono aziende logistiche o della tecnologia in America che puntano proprio ad avere veterani un po' per la formamenti un po' per questi skills particolari in Italia ancora siamo un po' indietro noi vorremmo essere un po' gli apripista di questa necessità di avere la componente veterana nelle aziende penso che tu abbia centrato il punto appieno la cosa non mi sorprende affatto il problema più grosso in Italia al momento secondo me non è tanto che non si vogliono assumere ex militari nelle aziende quanto più che non esiste un riferimento o chiamiamolo una traduzione una traslazione di quelle che sono le competenze acquisite in campo militare rispetto a quelle che sono le esigenze del mondo civile e quindi anche senza entrare in tecnicismi specifici di quello che è magari il combat medic piuttosto che altri incarichi di nicchia chi è passato dalla forza armata acquisisce comunque delle competenze di leadership di problem solving di critical thinking adesso parlo uso parolone in inglese ma guarda sono in tutte le aziende in qualunque settore ormai sono risk management tutti gli assess dei rischi chi meglio di persone che hanno background in situazioni di alto rischio esatto esatto in italia c'è ancora un po' di difficoltà nel riconoscerle un po' perché noi non siamo bravissimi a spiegarle queste competenze un po' perché le aziende vedono per la prima volta delle figure che io credo fino a questi anni erano erano un po' irraggiungibili chi entrava in forza armata nasceva soldato e moriva soldato adesso c'è magari anche un po' l'esigenza dato che diciamolo l'età media credo in forza armata ora si ha 40 anni sì qualcosa del genere è un lavoro per giovani ok adesso al di là di tutto lo staff di tutta linea di comando fare il militare è un po' il lavoro per giovani diciamocelo e quindi il nostro intento è assolutamente benevolo è quello magari di sensibilizzare anche le aziende la forza armata già è consapevole che è necessaria la transizione aiutare chi vuole a effettuare la transizione al mondo civile bisogna anche un po' sdoganare le competenze parlare un po' con le aziende quindi se qualcuno di qualche azienda dovesse capitare sul nostro podcast e dovesse pensare insomma di assumere o di reclutare personale militare può contattarci sul nostro sito o può contattare te o me sui social vogliamo iniziare attivamente un progetto che preveda l'aiuto ai veterani a reimpiegarsi assolutamente assolutamente noi non abbiamo alcun interesse nel convincere la gente a congedarsi o a rubare personale alla forza armata ma di fatto esiste personale in forza armata che vorrebbe fare altro vorrebbe reinventarsi una seconda carriera vorrebbe fare qualcosa di diverso c'è tanta gente giovane che vuole entrare sì e tanta gente giovane che vuole entrare esatto e diciamo che il problema è anche un po' garantire l'uscita di quelli che hanno vissuto la loro esperienza all'estero come funziona in America vanno in pensione dopo 22 anni di servizio sì tra i 20 e i 25 anni è la media delle nazioni della Nato e poi ti garantiscono un percorso di transizione so che l'Inghilterra ha un percorso di studio paga parte degli studi e aiuta a trovare un tuo posto nel mondo sì 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 esatto hanno programmi dell'inserimento negli Stati Uniti hanno fondi per accedere a studi ulteriori stessa cosa in Canada in Australia credo in America ci sia proprio un portale voluto da Obama no iRawar Heroes che è proprio un portale dedicato al riempiego di chi ha servito con una divisa sì 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 esatto esatto invece diciamo che non è stato non è stato il tuo caso no hai avuto un po' di difficoltà a trovare come dire una tua posizione nel mondo del lavoro su purtroppo dico purtroppo ci tengo a dirlo sul territorio nazionale e quindi hai usufruito un po' di questa tua possibilità di continuare gli studi e hai studiato a Cork o ti hanno dato una borsa e sei andato da un'altra parte a studiare ho studiato a Cork il programma che ho fatto al di là di alcuni moduli che richiedevano la presenza nel campus per il resto era fatto prettamente online come tanti corsi di studio adesso ho conseguito questo titolo di studio in Italia non essendo non esistendo la figura del paramedico in campo civile non c'è equipollenza nonostante sia una laurea triennale con tutti i crediti europei e via dicendo non essendoci equipollenza è un titolo che non può essere riempiegato sul territorio nazionale un peccato adesso magari qualcuno che ci ascolta o la proposta di legge che avete fatto magari potrà un po' scongelare questa problematica qui però attualmente tu hai preso una laurea sei un paramedico in Canada sì io in Canada sono un advanced care paramedic che è il livello di certificazione fa figo dirlo sì sì fa figo ho due binari sulla spallina quindi mi hanno fatto pure maresciallo prima adesso speri caporale ma pensa un po' i canadesi ti hanno fatto maresciallo bravo hanno fatto maresciallo no ho avuto ho avuto la grossa gli haters gli haters diranno che l'hai rubato il grado chiaro 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 haters gonna hate ho avuto la fortuna appunto che essendo corsi riconosciuti dalla Nato essendoci poi stato un titolo di studio riconosciuto a livello universitario anche qui ho avuto la fortuna di transiterare direttamente in una carriera da paramedico civile che è quello che sto facendo adesso a tempo pieno in parallelo con il mio lavoro da istruttore part time in realtà poi tra le tue tra la tua fantastica vita piena di impegni sei tornato poi a Fullendorf come guest instructor sì ormai per tre anni di fila sono stato invitato a andare a Fullendorf come guest instructor per il corso quindi con il grado quindi con il grado praticamente pressoché più basso che dà la forza armata sei diventato l'istruttore in un centro di formazione internazionale in Germania sì esatto penso che sei un timidone non lo dirai però alla fine sei andato a istruire altri soldati nella scuola di formazione più professionalizzante in Europa sì suona suona molto bene detta così sì 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 di fatto di fatto e ancora continui un po' alternando la tua carriera da paramedico civile a quella da istruttore adesso fate anche voi corsi a distanza dato purtroppo l'emergenza che ha che ha travolto anche in Nord America stai facendo dei webinar stai facendo dei corsi sì adesso come hai detto giustamente a causa Covid i corsi di persona sono un po' fermi però appunto continuo lavoro per una piattaforma online che si chiama Master Your Medics che è una piattaforma che forma paramedici fondamentalmente in tutto il mondo e collaboro con una società qui in Canada che addestra polizie e forze armate in campo medic poi appunto questa relazione con la STC di Fullendorf dove sono stato chiamato anche per l'anno a venire a lavorare come istruttore intanto Mike ti volevo ringraziare per il tempo che ci hai dedicato e anche per averci un po' raccontato la tua carriera adesso io ovviamente ho dovuto far finta di non saperlo ma noi ci sentiamo abbastanza spesso un po' per le necessità associative un po' siamo tra i fondatori e quindi ci teniamo personalmente affinché tutto tutto il messaggio venga veicolato in maniera corretta quindi ti ho dovuto fare un po' delle domande pierine delle quali sapevo già la risposta pensavo fossimo anche amici al di là di tutto questa detta la componente associativa no in realtà in realtà no perché tu sai bene che tra RT tra radiofonisti e medici sniper e insomma i breacher essendo categorie stagne separate non c'è vera amicizia insomma c'è una hai ragione hai ragione intanto me lo dimentico sono uscito dalla forza armata quindi ormai me ne sono dimenticate queste cose sì ma voglio dire adesso che se ne dica voi potete fare tutto il soccorso che volete ma poi se non sono quelli come me che chiamano via radio insomma l'evacuazione cioè voi non è che servite a tanto se non arriva l'elicottero siamo fregati assolutamente adesso tutto da soli non potete fare va bene che mi scrivi insomma adesso adesso al di là delle cagate c'è qualcosa che vorresti consigliare ai giovani che vogliono intraprendere un percorso similar al tuo Michael oggi nel 2021 non lo so perché io penso sempre ai giovani no non perché mi reputi vecchio anzi ancora io pure io sto seguendo un percorso di laurea adesso che ho 37 anni pedagogia quindi però avrei voluto ricevere l'aiuto che al 15 anni fa o 20 anni fa non c'era da parte dei veterani verso gli altri più giovani quindi tu che cosa vorresti consigliare a un giovane Michael del 2021 che percorso fare il tuo stesso percorso faresti qualche delle variazioni ora il consiglio più grosso che mi sento di dare a un giovane che ha ambizioni in questo ambiente è innanzitutto di crederci duro perché se non ci credi e non lo vuoi duramente non ce la puoi fare quindi questa è la prima cosa non è un mestiere di ripiego diciamolo non è un mestiere di ripiego dove ci capiti e dici vabbè ci provo voglio dirlo hai fatto bene a toccare questo tasto è un mestiere che come tanti altri come tanti altri come il vigile del fuoco come la gente di pubblica sicurezza il poliziotto del carabine insomma non sono mestieri di ripiego si possono fare con tanta passione o si possono fare con tanta passione non c'è tanta alternativa hai detto bene credeteci duramente metteteci tanto del vostro perché se pensate di poter fare un certo tipo di percorso lavorando dalle 8 alle 16 e 30 e poi dedicandovi ad altro siete sulla strada sbagliata perché indubbiamente c'è da metterci tanto dal punto di vista fisico dal punto di vista mentale forse anche dal punto di vista spirituale e poi l'altra cosa che è diversa rispetto a quella che era la realtà 15-20 anni fa ci sono tante realtà come non dole tra associazioni di veterani e usate questo supporto le associazioni combattentistiche insomma lampidi per i paracadutisti l'anie per gli incursori insomma ogni forza armata ogni reparto ogni specialità ha la sua associazione combattentistica a supporto ci sono tutte queste realtà e tutte queste risorse usatele fate domande andate alle conferenze esatto dato che sono tutte associazioni attive e frequentate da da veri veterani a parte le marchette che ci facciamo e l'autocelebrazione è pieno di associazioni quindi io consiglio al di là di utilizzare i social andate a parlare con l'associazione combattentistica di zona dei reduci dei combattenti le associazioni dei carabinieri è pieno di associazioni a supporto delle figure simili alla nostra quindi sì hai fatto bene a parlarne senza alcuna ombra di dubbio Luca ti ringrazio tanto per avermi dato la possibilità di fare la prepista per il podcast di non dolet no ci tenevo ascolta l'ultima domanda poi ti lascio un pace dove ti vedi tra dieci anni questa non me l'aspettavo l'hai fatta a sorpresa volevo fare il marzullo della situazione tra dieci anni mi vedo sempre qui in Canada però magari invece che lavorare su un'ambulanza forse in elicottero ecco sempre attivo o vorresti diventare prettamente formatore perché adesso tu dividi la tua vita tra soccorritore e formatore cosa vorresti fare tra dieci anni cosa ti piace di più penso che gradualmente mi spingerò sempre di più per adesso sto facendo un 75% operatore 25% formatore tra dieci anni forse sarò 25% operatore 75% formatore perché immagino che sia solo l'esperienza che poi va a determinare la crescita le capacità formative se non c'è esperienza c'è poco da insegnare pratica batte teoria esatto intanto ti volevo ringraziare veramente ci tenevo insomma finché tu fossi il primo ma non l'ultimo non escludo che magari successivamente faremo degli altri puntati dove ci racconti qualcos'altro della tua carriera passata o insomma qualcosa che avverrà nel futuro ti teniamo lì come jolly per riempire i buchi va bene ti facciamo fare il tappa a buchi nelle prossime puntate va benissimo ti marchetto vuoi marchettare qualcosa della Somsi o dei tuoi profili social no no siamo a posto così ok allora ti trovano su instagram come maccherone medic mi trovano su instagram come maccherone medic questo è il mio più grande profilo social quindi se avete qualsiasi domanda curiosità se siete haters o volete bombardare di spam di foto di gattini che ci teniamo a dire ti piacciono e buongiornissimo e tutte quelle fregnace là te le possono inviare su quel profilo assolutamente assolutamente io ho il profilo instagram rispondo a tutti io rispondo a tutti rispondo a tutti non mi interessa che siete in forza armata siete civili se avete qualsiasi domanda mandatemi un messaggio su instagram allora un abbraccione grande e ci sentiamo presto vai luca eccoci arrivati alla fine del primo episodio sono molto contento e voglio spendere giusto altri 30 secondi per marketare un po' l'organizzazione ringrazio michael che è uno dei soci fondatori e tutti gli altri soci fondatori tutti i membri i soci sostenitori dell'associazione quelli che ci permettono con il loro supporto fisico e anche in misura di donazioni di poter mandare avanti i nostri progetti tra i quali appunto questo podcast sono molto contento che stia andando avanti e vi posso già annunciare in anticipo vi faccio un piccolo spoiler che avremo dei grandi grandi veterani soldati italiani adesso in congedo spero che ci sia un intervento attivo effettivo di forza armata in questo processo per dare un po' più voce ai veterani ci tenevo a ringraziare tutti quelli che stanno collaborando con noi a 360 gradi con questa iniziativa con le altre iniziative speriamo che la forza armata e l'amministrazione pubblica si aggiornino anche loro in questa direzione e quindi magari che ci contattino tramite i nostri social tramite i canali per collaborare anche con questo podcast noi sappiamo che molti elementi del personale in servizio permanente o anche dai ragazzi che comunque si trovano ancora coinvolti o indossano ancora la divisa molti vorrebbero raccontare molti vorrebbero parlare molti vorrebbero condividere esperienze ringrazio nuovamente tutti quelli che hanno collaborato la Ficio Production vi esorto a contattarci a seguirci sui vari social dove riceverete aggiornamenti sui prossimi episodi farci avere dei feedback riguardo questi podcast contattateci via email contattateci a non dole podcast chiocciola gmail.com utilizzate il nostro sito ufficiale instagram e a tutti voi veterani che avete iniziato ad ascoltare questo podcast noi siamo qua pronti ad ascoltarvi siamo qua pronti a darvi uno spazio per parlare daremo la possibilità a tutte le persone per quanto possibile di parlare e raccontarci la loro storia non dole podcast non dole non dole